ragazzi ecco qua finalmente vi porto i glitch di come andare a ludendorff ragazzi questa cosa non l'ho fatta io però è un video che è completamente uguale come si fa ovvero che vi spunterà la mappa di ludendorff prima cosa regatevi in un garage e spargete la benzina come si sta vedendo adesso ragazzi mi raccomando è molto importante poi salite su una qualsiasi moto come state vedendo qualche ma del taxi ragazzi mi raccomando se volete far spawnare northean dovete fare tutte cose alla perfezione come ci fa vedere in questo video mi raccomando è molto molto importante io ho fatto così e su ps4 ragazzi funziona a 100 per cento se avete una playstation 4 slim pro o normale questo glitch vi funzionerà ve lo posso assicurare ecco ora dovremmo entrare come avete visto nel garage mentre prende fuoco e andare su taxi e entrare davanti nel taxi cioè a posto di guida e premere ragazzi l3 è molto importante e vi spunterà questa mini mappa e poi ragazzi ecco qua vi spunterà questa mini mappa e dovremmo trovare un taxi per andare a fare la missione se aprire la scia di guerra ragazzi è molto importante questo adesso vediamo qua un taxi ci sarà ragazzi se ora lo trovo un taxi ecco qua ecco qua i taxi ragazzi non c'era bisogno che fischiava tanto lo stesso ragazzi ecco qua il caricamento non ci serve assolutamente ecco qua ragazzi dopo essere arrivati dovete entrare in casa di michael e far partire la missione seppellire l'asce di guerra saltate ragazzi mentre che prendete la macchina dovete mettere il gps con il tasto quello la grande del del joystick se ragazzi voi accelerate non fa cioè vi si sbaga tutto però in questo caso stanno prendendo un altro taxi per andare al punto così anche più veloce se ragazzi non vi dovesse spuntare un taxi con la macchina dovete guidare fino al punto giallo che vi porta la mappa come ho fatto io ragazzi mi raccomando è molto importante fino a quando arriverete in questo punto ragazzi adesso qua c'è la parte bella dovrete prendere l'elicottero e con il tasto grande dovete rimettere il menu interazione ragazzi e con il menu interazione dovete volare tutto il tragetto fino a quando arriverete dove c'è il puntino giallo e qua vi spunta vola a norti anton ragazzi andando voi dovete andare fino a quando non vi porta la mappa ecco qua ragazzi levare le ruote ragazzi dovete fare tutto il tragetto magari vediamo se ve lo posso mettere un pochettino più veloce dovete fare ragazzi tutto questo tragetto come ci sta facendo vedere adesso ecco qua dovevamo passare questa montagna con questo menu ragazzi non dovete levare mai in menu interazione perché sennò vi porta garage con l'aereo e vi si sbaga tutto cioè ragazzi fate in questo modo ecco qua dopo aver superato questo vi arriverà il messaggio di ron ma questo non è importante ragazzi appena arrivate qua vicino ora ve lo spiego allora appena si avvicina appunto giallo lo schermo si abbuglierà e appena lo schermo si abbuglia dovete spammare cerchio al momento giusto perché sennò non vi fa e se tutto va bene deve comparire missione fallita adesso dovete premere cerchio spommare devi spommare devi spommare cerchio proprio e se tutto va bene deve spuntare missione fallita ragazzi se invece non dovrebbe andare bene vi da ludendorf northyenton ovvero come continua la missione normale ragazzi sentiamo il caricamento che non ci interessa e poi vi farà così con trevor che è poi come possiamo vedere qua lo possiamo pure portare avanti ragazzi non è importante ecco qua ragazzi poi prende l'aereo e come possiamo vedere lì in fondo è spawnata la città di ludendorf e da qua ragazzi avete superato tutto se ragazzi avete seguito le mie istruzioni quello che vi ho detto alla perfezione sulla vostra ps4 vi dovrebbe fare vi dovrebbe funzionare glitch senza nessun problema ragazzi se avete finito il gta e volete un pochettino fare delle cose che così anche per giocare per fare ragazzi dovete fare questa cosa da max gamer official ragazzi per oggi è tutto ciao